Latina Lazio e Latina in campo per ricordare Vincenzo D'Amico. Campione d'Italia con i Bianco Celesti nel 1974 e legatissimo alla cittadina laziale. Per gli uomini di Maurizio Sarri sarà l'ultimo test amichevole prima dell'inizio del campionato. Segui la sfida in diretta. 2253 Felipe Anderson Isaksen e Kamada, ci daranno molto Felipe Anderson ai microfoni della TV. Ufficiale della Lazio dopo il match contro il Latina. È stato bello vedere così tante persone che sono venute a sostenerci. Ci dà l'energia per iniziare nel miglior modo possibile. Isaksen, lui e Kamada sono arrivati motivati. Sono bravissimi ragazzi e ci daranno tanto. Noi sono qui per aiutare anche loro. Sono tornato con la fiducia della società e dell'allenatore. Voglio dare ancora di più in questa stagione. Voglio che ogni anno sia ancora migliore. 2249-90 fischio finale. Il primo memoriale dedicato a Vincenzo D'Amico, finisce senza recupero. La Lazio si impone sull'Atina con un secco 90. 2247-88 nono gol della Lazio Castellanos. Nono gol della Lazio con Castellanos. Che devia da distanza ravvicinata un assist di Vessino. Secondo gol per L Argentino nel precampionato. 2243-85 giallo per Rocchi. Grande giocata di Sana Fernandez. Fermata da un fallo di Rocchi. Giallo per lui. 2237-79 ultimi cambi nella Lazio Maurizio Sarri. Sostituisce gli ultimi due titolari del primo. Tempo fuori Lazzari e Zaccagni. Dentro i giovani Ruggeri e Fernandez. 2235-75 ancora cambi nel Latina Donato inserisce Perseu. Di Renzo e Gallo per Livio. Ercolano e De Santis. 2234-75 Biagi ha monito primo giallo della partita per Biagi. Che prima trattiene Zaccagni per la maglia. Poi respinge il pallone mandandolo in tribuna. 2232-74 ritmi bassi. Più cambi nella Lazio Maurizio Sarri inserisce Bertini. Ferse e Adamonis. Che prendono il posto di Cataldi. Marusic e Provedel. La Lazio ha decisamente abbassato il ritmo. 2226-67 doppio cambio nella Lazio fuori Casale e Luis Alberto. Maurizio Sarri inserisce Mario Gila. E Toma Besic. Al posto di Casale e Luis Alberto. 2217-59 doppio cambio a Latina Biagi e Gello sostituiscono Fella e Cittadino doppio cambio a Latina. 2214-56 subito Isaksen segna 80 per la Lazio Isaksen bagna il suo esordio con la Lazio con un gol. Segnato meno di un minuto dall'ingresso in campo. L'attaccante danese approfitta di un assist di Luis Alberto per presentarsi davanti al portiere e segnare. 2213-55-4 cambi nella Lazio Sarri cambia quattro giocatori. In campo Patrick. Vessino. Castellanos e Isaksen fuori Romagnoli. Kamada. Immobile e Felipe Anderson. 2211-52 tripletta di Immobile 70 per la Lazio Immobile, ruba palla e segna il 70 alle spalle di Cardinali con un tiro in diagonale. Standing ovation dallo stadio per Immobile. Che mette a segno una tripletta. 2208-49 primo gol di Kamada per la Lazio Gran Gol Kamada. Che di sinistro mette in rete un assist Zaccagni. Primo gol del neo acquisto bianco celeste. 2207-48 quinto gol della Lazio Zaccagni-Lazio Subi.